Il mondo è qui in fondo Salve a tutti, mi chiamo Alessandro Lunardelli Sono regista del film Mondo fino in fondo Che stasera in questa serata fantastica Ha aperto il festival di Merzamemi Una giornata un po' speciale Perché quando si trasmette un film Davanti a una platea così numerosa E così attenta E sempre con qualcosa di emozionante e di speciale Vi dico solo che il mio film era un film Un road movie Quindi un film che partiva da un paesino dell'Italia E poi si proiettava oltre la frontiera Fino in Sud America Grazie 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 Grazie